È una visione, è una visione che risale al rinascimento, cioè la bellezza come strumento per il wellness, per star bene, per il benessere. Benessere che non si esaurisce nella ricchezza, questo è il tema forte, non può esaurirsi nella ricchezza o nella crescita del reddito, ma che ha evidentemente fondamento nel fatto che uno possa mangiare, perché altrimenti non si può parlare di felicità, non si può parlare di bellezza, non si può parlare di nulla se uno non risolve i problemi di sovravvivenza. I paesi industrializzati questi problemi li hanno risolti in realtà, quindi tutto sommato vi sono i poveri, ma sono poveri relativi, non poveri assoluti, nel senso che praticamente la maggior parte non dorme sotto i ponti, la maggior parte non va a recuperare del cibo nelle discariche, quindi diciamo che complessivamente rispetto ad India, rispetto a Cina, rispetto al Brasile stesso, no, vi è una condizione complessiva migliore. Però questi paesi industrializzati che sono un miliardo di persone devono capire cosa fare domani, cosa fare, come andare avanti e questo devono capirlo in una visione più ampia dell'uomo, del benessere dell'uomo e questo in questa visione noi vorremmo dare, perché noi siamo un ente culturale, la Fondazione Curella, che deve evidentemente pensare non a oggi, non a domani, ma deve pensare al futuro, al futuro dei nostri giovani, al futuro della generazione che sta arrivando, per dare risposte concrete e obiettivi certi. Felicità e bellezza come prospettive per uscire dalla crisi? Sì, certamente, credo che questa sia ormai la chiave di volta della futura economia, felicità e bellezza, mettere al centro dell'attenzione un po' quello che è il valore umano, la risorsa umana, non più appunto questo concetto è contrapposto a ricchezza e crescita, perché ormai ricchezza e crescita è un concetto ormai vecchio, è un concetto di per sé che non ha, diciamo, è un concetto desueto, perché la crescita di per sé non può essere illimitata, come si è creduto fino a un bel po' di tempo fa, perché siamo in un contesto limitato e finito, per cui una crescita illimitata non potrebbe esistere. Ecco allora che diventa importante mettere al centro le risorse umane, le persone, quindi il loro benessere, la loro felicità, solo così si può pensare di uscire da questo momento di difficoltà e di crisi.